Salve a tutti ragazzi, oggi farò un altro tutorial per il tubo catodico e vi spiegherò come installare gratuitamente Minecraft. Per fare ciò dovete cliccare sul link nella descrizione e arriverete a questa pagina, un media file e da qui scaricherete il punto rare, estraetelo con winrar e vi troverete questa cartella, Minecraft il tubo catodico e qui dentro ci saranno una cartella e un file, la cartella è la cartella del gioco di Minecraft e mentre questo è il launcher. Bene, voi dovete prendere questa cartella punto Minecraft e copiarla in questa cartella, dovete andare in start se avete 7 o vista e spingere %appdata% e vi si aprirà questa cartella, come vedete io l'ho già installato, ho già qui la mia cartella Minecraft e voi dovete copiare qui questa cartella, successivamente prenderete questo e lo inserirete qui sul desktop e questo, fatto ciò farete partire il launcher, scusate ho un mio problema con java e vi partirà il launcher di Minecraft, farete enter game e il gioco funzionerà, single player potrete fare il vostro mondo, multiplayer eccetera. Dato che però questa è una versione non originale, quindi non è comprata, non potrete accedere ai server ufficiali, dovete per forza entrare in un server creato appositamente per questa versione di Minecraft. Se invece volete entrare nei server ufficiali dovete acquistarlo al prezzo di 15 o 20 euro dal sito ufficiale che metterò nel link nella descrizione. Bene, per oggi abbiamo finito, il tutorial per installare Minecraft è terminato, un saluto dal Tubo Catodico alla prossima puntata.